vi riporto velocemente anche questo perché no per chi se lo fosse perso però non fa non faccio una serata monotematica su questo allora io vincenzo abbiamo fatto un bellissimo quadro molto illuminante andando a collegare avevo promesso anche la pagina dell'agenda 21 mannaggia santa non so se prendere il libro prendere il documentario all'arne a prendere il libro scari velocemente la pagina dell'agenda 21 e la cartina di esempio io vincenzo abbiamo fatto un bellissimo quadro andando a collegare un po tutti i tasselli del puzzle per capire dove vogliono andare ho trovato la pagina ottimo però la cartina adesso ve la devo aprire in maniera digitale per farvela vedere bene perché non potete vederla bene altrimenti se vi metto il libro davanti abbiamo collegato quindi dagli anni 90 con l'agenda 21 quello che già veniva dichiarato come fine abbiamo collegato quello che sta avvenendo oggi un po tutti i tasselli ad arrivare ad oggi o meglio in questo modo si è veramente chiarito il disegno e dove volevano finire infatti scoprendo quello su cui stanno lavorando oggi a riguardo agenda 30 per 30 progetto 30 per 30 le città da 15 minuti tutto questo allarmismo climatico che aperta parentesi era partito dalla non dal nonno di greta thunberg è stato lui uno dei primi portavoce dell'elite tempo addietro adesso la data esatta non me la ricordo ad essere il primo portavoce sul l'allarmismo climatico il nonno di greta thunberg il che ci svela come mai greta thunberg è dov'è e quel che fa vedendo quello che sta succedendo oggi sarà tutto più chiaro però bisogna partire dall'inizio quindi andate a vedere il video con vincenzo dove parliamo di tutto questo sino alla centralizzazione della produzione alimentare includendo l'argomento insetti trovate questi video sia da me che da vincenzo poi c'è anche il documentario appunto di david e negli ultimi capitoli andiamo proprio a finire sull'agenda 21 io adesso vi rifaccio vedere la cartina di esempio come volevano suddividere le aree terrestri quindi rendendo quasi tutte le aree off limits agli esseri umani tranne che per loro e quali erano gli obiettivi sotto la falsa bandiera del cambiamento climatico protezione della biodiversità e via dicendo tra l'altro il nonno di greta thunberg era anche lui un eugenetista e c'è tanto da dire io ci tenevo a ridirvi per chi si fosse perso questi aggiornamenti con vincenzo quindi che cos'è la gente il progetto 30 per 30 che cos'è la città da 15 minuti sarà veloce vi dico maniera superficiale ma che gli possa servire per tutto il ragionamento di questa sera finendo appunto sulle isole intelligenti un argomento che non abbiamo mai affrontato e via dicendo vi ricapitolo anche gli obiettivi a riguardo di questa agenda 21 e la protezione la falsa protezione la della biodiversità in realtà per trasformare il mondo ed è quello che stanno facendo oggi quindi con largo anticipo dagli anni 90 oggi quello che avevano preannunciato si sta concretizzando ok quindi se vi siete persi tutte queste cose io cercherò di essere utile per tutti semmai partiamo velocemente dall agenda 21 sto guardando il libro inizio dicendovi gli obiettivi allora quello dell'agenda 21 vi ho detto anni 90 precisamente anno 1992 ok parliamo dell'agenda 21 e poi si è andata ad aggiornare con l'agenda 2030 quindi tutte le relative scadenze i loro obiettivi da raggiungere entro il 2030 ecco gli obiettivi a partire dagli anni 92 vi dico solo gli obiettivi perché è importante hanno un programma hanno stilato nel 92 un programma di 40 capitoli per depredare il mondo e i suoi obiettivi includono la fine della sovranità nazionale la pianificazione la gestione da parte dello stato ascoltate bene pianificazione e la gestione da parte dello stato di tutte le risorse della terra quindi vedete la centralizzazione della produzione alimentare si finirà anche lì non c'è dubbio non solo degli ecosistemi dei deserti delle foreste delle montagne oceani e corsi d'acqua dolce ripeto pianificazione e gestione da parte dello stato di tutte le risorse della terra e queste che vi sto citando l'agricoltura lo sviluppo naturale no scusate uno sviluppo rurale le biotecnologie e garanzia di equità tra parentesi tutti equamente schiavizzati che sia lo stato ulteriore punto che sia lo stato a definire il ruolo del commercio e delle risorse finanziarie abolizione della proprietà privata tra parentesi non è sostenibile cioè vi rendete conto stiamo parlando degli anni 92 abolizione della proprietà privata mi torna in mente anche tra le più famose citazioni del uef quella del non avrai nulla e sarai felice con tutto quello che sta accadendo tra le loro pubblicazioni le loro proposte che si tratterà di carccia di sharing dei servizi quindi condivisione di servizi a partire dalla mobilità tutto il resto vi faccio vedere anche qualche aggiornamento che non abbiamo mai argomentato prima al riguardo ulteriori punti riorganizzare il nucleo familiare bambini cresciuti dallo stato in visione molto axleyana potremmo dire da aldo saxe il mondo nuovo imporre un lavoro specifico alle persone e questo è stato anche scusatemi che è andata dietro la web faccio così così non mi sfarfalla imporre un lavoro specifico alle persone era stato presentato o meglio aveva fatto degli appunti la meloni vi ricordate che avevo parlato dei documenti della meloni a riguardo dei dell'intelligenza artificiale che alla fine della scuola dovrebbe andare a scegliere lavoro per gli studenti e se si rifiutano gli vengono tolti i privilegi e via dicendo importanti restrizioni sulla libertà di spostamento anche qua progetto obiettivo zero carbon entro il 2030 la 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 tessera sul carbonio sui nostri spostamenti non ci possiamo spostare più di troppo perché non perché altrimenti inquiniamo pensate questo un punto agenda 21 anno 92 importanti restrizioni sulla libertà di spostamento oltre tutto quello che è successo ultimamente e rientrando sempre nel quadro di come vorrebbero trasformare il mondo e stanno partendo più che mai oggi con il progetto 30 per 30 che adesso vi ricapitolo velocemente importate sottolineo importanti restrizioni sulla libertà di spostamento la maggior parte delle zone saranno off limits non saranno accessibili quindi si rientra anche lì sulla libertà di spostamento attenzione ulteriore punto creazione di zone per l'insediamento umano perché ci saranno zone dove saranno le popolazioni tutte ammassate e il resto delle porzioni delle terre insomma non saranno accessibili reinsediamento di massa mentre la gente viene forzata ad abbandonare il luogo in cui vive così come le le spropriazioni sono partite sempre al giorno d'oggi con vincenzo avevo portato degli esempi no come in olanda quanti erano 20 mila aziende agricole sono state spropriate dai terreni ne sta succedendo e attenzione ci rientriamo questa sera proprio con le isole intelligenti perché questo sta anche accadendo con l'introduzione delle isole intelligenti infatti da laboratoria cielo aperto come le identificano come le etichettano queste isole intelligenti c'è puzza di arrivare a queste isole come lager come vi stavo dicendo al giorno d'oggi sta già attuando questo questo spostamento forzato di popolazioni in alcune isole intelligenti ve lo faccio vedere a breve quindi sto facendo anche una cosa abbastanza collegata appositamente partendo dal passato ripeto reinsediamento di massa mentre la gente viene forzata ad abbandonare il luogo in cui vive poi banale banalizzare l'istruzione come ad esempio la fine della sovranità nazionale è tra i punti già raggiunti banalizzare l'istruzione e poi c'è il depopolamento sotto falsa bandiera allora vi faccio vedere la cartina a questo punto perché se la faccio vedere dal libro si vede male questo era il capitolo decimare la popolazione quindi dovrebbe essere capitolo 12 dovrebbe essere la parte del documentario chiamata depopolamento adesso andiamo la recuperare ma anche con vincenzo l'avevamo messa in sovrappressione quindi datemi un attimo che in un video nell'altro vi faccio vedere come si deve la cartina dell'agenda 21 abbiate pazienza ma devo fare così perché se ve la faccio vedere a mano dal libro si vede male allora bisogna andare nel nostro primo canale però perché eccola qua ok 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 le due puntate con vincenzo sono queste qua mangiare insetti piano pianificato nel 1992 con l'agenda 21 centralizzare la produzione alimentare questa è la prima parte e poi c'è la seconda tra i progetti della darpa e dell'unione europea adesso vedete che già come copertina qui abbiamo messo a specchio la cartina ad esempio ad esempio di come avrebbero voluto trasformare il mondo del 1992 messa a confronto a specchio con l'agenda 20 30 e appunto il progetto 30 per 30 e la troviamo qui dentro adesso vado a trovare la scena a facciamo così facciamo una bella cosa perché qui vincenzo ne parla tre minuti quindi facciamolo dire a lui io avevo qui un estrattino dell'agenda 30 30 ve lo dico subito così perché si fosse perso questo quadro ora me cerchiamo di mettere insieme arrivando a le isole intelligenti in due parole il 30 per 30 o 30 by 30 a ben inglese è un'iniziativa intergovernativa per designare il 30 per cento delle terre emerse e delle aree marine mondiali come aree naturali protette entro il 2030 quindi restringere limitare il 30 per cento di queste zone entro il 2030 questo è il 30 per 30 detto in due parole 30 per cento entro il 2030 qui c'è un po di storia ho raccolto apposta per chi si fosse perso il quadro e ho trovato anche questo ci arriviamo tra un attimo e lo analizziamo abbastanza velocemente e ora vi faccio vedere le cartine ho trovato anche questo priorità natura italia la sfida del 30 per 30 dal WWF con il report priorità natura italia la sfida del 30 per 30 il WWF avanza una proposta di aree prioritarie italiane per la strategia UE sulla biodiversità quindi ci arriviamo guardiamo un attimo che cosa ci dicono da qui mi sembrava una buona idea far rileggere un attimo qualcosina in più da da vince e arriviamo alla all'agenda 21 e la cartina tanto ci mette un attimo ok vedete qui c'era anche l'esempio che vi dicevo prima il governo olandese spropria e chiude 3000 aziende agricole ok prima ho detto numero più grande andavo a memoria ora mi correggo 3000 aziende agricole allevatori e coltivatori non hanno diritti ora metto l'audio del video ci guardiamo questi tre minuti quanto è grande all'olanda e ricordatevi anche l'olanda perché ci torniamo questa qui sarà la mappa del mondo quando sarà finito nel 2030 la diciamo questa iniziativa del 30 per 30 vediamo in blu e in azzurro tutte le parti del mondo che saranno considerate sia mari che terre sono considerate riserve naturali dove non si potrà accedere i cittadini non potranno accedere quindi solo nelle zone bianche dei mari si potrà pescare e nelle zone bianche della della terra diciamo nelle terre emerse si potrà abitare quindi concentreranno dal 2030 in poi tutti nelle grandi città automatizzate con identità digitale e tutto quello che c'è dietro ma concentriamoci un po su questo discorso qui questo è il world economic forum questa qui è una pagina presa che mi ha girato davide e ne parla appunto david ike nel suo libro vi ricordo questo questo video nel canale di davide sul morbo di morgellons dal minuto 12 parla di questa cosa qui vi faccio vedere l'immagine questi qui agli stati uniti e in nero quindi in scuro troviamo le riso e le riserve corridoi centrali 0 o limitato utilizzo umano quindi guardate la mappa degli stati uniti dal 2030 questo è sempre l'agenda 21 agenda 20 30 grande reset in queste zone nere non ci si potrà accedere o c'è accesso limitato innanzitutto chiudo una parentesi sugli espropri che stanno attuando in tutto il mondo questo della dell'olanda è un grande esempio ma è solo un esempio di quello che sta succedendo direi che basta quanto detto poi guardate queste puntate mi raccomando ok così abbiamo fatto la cosa migliore mettendo a specchio queste due cose approfittato con il video già registrato ovviamente ok che cos'è la città da 15 minuti anche questo se però siete persi direi che è importante nel quadro come stanno trasformando il mondo all'insegna del cambiamento climatico allora dove iniziava vediamo un attimo qui diamo un'occhiata alla repubblica punto it vincenzo non ha fatto un bel video quindi vi consiglio di vedere il suo video assolutamente qui era giusto per chiarirvi la cosa se però siete persi e intanto intanto ho trovato anche degli aggiornamenti dall'italia il movimento globale delle città da 15 minuti con questo long form inizia la nostra serie sulle città da 15 minuti al c40 summit di buenos aires la rete delle aree urbane green ha trovato la sua consacrazione loro obiettivo di garantire ai cittadini servizi sport lavoro scuole raggiungibili a piedi o al massimo in bicicletta quindi è per questo che vengono chiamate da 15 minuti ora vi faccio vedere una cosa anche per capire un po meglio allora fino a qualche anno fa si era iniziato a parlare delle città da 15 minuti sembrava fantascienza sembrava una cosa irraggiungibile ora stanno attuando è stato il c40 summit elemento annuale del cities climate leadership group una rete nata nel 2005 formata da 97 centri urbani del mondo nomi di peso come londra parigi barcellona copenhagen sol colma tene bogotà rio los angeles new york tokyo seul cap town e roma e milano infatti vi faccio vedere da milano gli ultimi aggiornamenti sono anche altri ovviamente questi sono grandi esempi guardate questo a milano tutti i servizi nel raggio di un chilometro e mezzo il progetto del sindaco sala prevede piazze pedonali poli ambulatori uffici pubblici in ogni quartiere il nostro dossier sulle città da 15 minuti ecco perché ogni azione di sindaco assessori viene pianificata nella cornice delle città da 15 minuti questo è del 5 dicembre 2022 fino poi avete visto quanto hanno spinto nelle grandi città anche la questione sharing condivisione è già pieno di macchine a noleggio condivise eccetera eccetera allora direi di dare un'occhiata a questa pagina che abbiamo messo da parte a riguardo dell'italia è il 30 per 30 nel report wf la sfida per dare all'italia una rete efficace di aree protette a terra e in mare wf strategia europea per la biodiversità per il 2030 affida alle aree protette un ruolo fondamentale nella conservazione della biodiversità tensione perché tutto questo era già preannunciato dall'agenda 21 io questa sera sono stato breve sull'agenda 21 perché voglio portarvi anche altro tipo di aggiornamenti al di fuori di questo perciò guardate le puntate con vincenzo e il documentario su david aic che ripassa tutti i punti fondamentali oltre quello che vi ho detto ovviamente sull'agenda 21 a riguardo di questo la puntata precisamente è questa quella che abbiamo visto prima sul morghello c'è la maschera quindi è più sopra stava andando troppo giù eccola qua morghello avvelenamento dal cielo e agenda 21 questa è la puntata dove si passa sull'agenda 21 e un sacco veramente un sacco di citazioni e collegamenti rivelatori per quanto sta succedendo adesso l'attuale rete non è sufficientemente ampia per garantire gli obiettivi di salvaguardia con il report priorità natura italia la sfida del 30 per 30 lanciata in occasione della giornata mondiale dell'ambiente il 5 giugno il WWF avanza una proposta di aree prioritarie italiane all'interno delle quali individuare le aree da proteggere per il raggiungimento degli obiettivi della strategia europea per la biodiversità eccola lì 30 per 30 e assicurare un'adeguata tutela del nostro capitale naturale Renature Italy abbiamo appena 10 anni questo perché la scadenza è sempre 2030 per fermare la perdita di biodiversità in Italia e rigenerare il nostro capitale naturale a favore del benessere e della salute di tutti noi è la più grande sfida della nostra epoca se voi riguardate le puntate che vi ho citato vi sarà tutto chiaro ora vi basti dire che è un semplice grande problema reazione soluzione ovviamente ce la vendono bene sotto una falsa bandiera della protezione della natura o loro amano tutti e vogliono proteggere tutti così ce la vendono ma il finale è veramente drastico inquietante e triste quindi è quello che dovete capire come esempio dobbiamo comprendere il finale per comprendere ogni steps che loro fanno per capire proprio se sappiamo dove vogliono arrivare ogni passo ci sarà chiaro ora chiudiamo con le isole intelligenti ok per capire in mezzo a questo quadro come sia un tassello importante io ho fatto il possibile per ricapitolarvi le cose importanti adesso vi faccio vedere che cosa ho trovato io riguardo delle smart island ma mi appoggio prima della mia ricerchina a riguardo a questo video di un ragazzo straniero il suo video si chiama come le terrificanti città di 15 minuti stanno trasformando il mondo intero lo andremo a tradurre perché come vi ho detto parla in inglese dura 9 minuti e ci mette davanti tanti documenti e pagine al riguardo e anche delle riflessioni che poi piano piano ci faranno ragionare insieme alle mie di ricerche a riguardo e già vi ho fatto vedere un pizzico ho messo i sottotitoli città di 15 minuti stanno trasformando il 15 minuti il 15 minuti stanno trasformando il 15 minuti è un concepto di urban planning dove ogni giorno necessità sono facilmente reachabile within una 15 minuti walk o una 15 minuti bike completamente it will not only change how we communicate how we produce how we consume it will change actually us our own identity smart traffic smart government smart cities what we will see is that everything will be integrated into a ecosystem driven by big data and driven particularly by close cooperation of governments with business civil society one of the largest dutch banks say why don't we start with a personal carbon credit a carbon wallet she called it actually so right in line with the plans that the world economic forum people have for us and she said it in a way that was particularly funny she said well if everyone gets an individual personal carbon credit why don't we make it so that rich people un attimo che qui si è spostato troppo il sottotitolo lo metto a posto why don't we we make it so that rich people who for example want to go on holiday ok ora ve lo faccio leggere dritto so that rich people qui il problema che se lo metto si vede perché un attimo fatemi controllare ah ok perché sono nel forum è per quello quindi poi faccio una cosa intelligente siamo al minuto 1 faccio una cosa intelligente abbiate pazienza ma è per migliorare la trasmissione lo mando da qua direttamente dalla fonte almeno posso anche fermare se ci sono i sottotitoli veloci ok ok subtitles ok si è rimasto il minuto 1 li mettiamo in mezzo vedete che qui posso fermarlo ok rich people who for example want to go on holiday a little too often can buy personal carbon credit from other people who for example can't afford buying plane tickets or eating meat too often and so we questo è un aspetto fondamentale effettivamente chi non se lo può permettere sarà limitatissimo no? negli spostamenti nei viaggi eccetera dall'altra parte abbiamo un'elite e i ricchi che addirittura possono acquistare i crediti da qualcun altro per poter viaggiare se alle personal carbon credit i non più vedete che archeggiamentali che per esempio want to go on holiday a little too often can buy personal carbon credit from other people per esempio can't afford buying plane tickets or eating meat can't afford so if people start disaparing to the location that i am about to tell you you need to know what's next tolle am i showing this video because this is a part of the whole climate agenda the whole climate war agenda that's going on and i'm about to give you some documents about smart islands let's go into the next piece of information this is the design boom right here this this is where they say you're gonna you're gonna live after you know the climate situation then i'm gonna show you the documents w lab proposes self-sufficient bio cabins for post climate change age so you know they like well you know you got these bio cabins for you you just walk on in here right we've devastated your climate right we hit you with the geoengineering bill gates he's got you that's a part of the geoengineering yeah uh yeah so now you're gonna live in these bio cabins which don't look that bad right but then you find out you're on some weird island where they want you to be and so it says w lab evaluates how people could survive impossible post climate change age scenario gathering existing technologies and current bio construction solutions to shape a futuristic low environmental impact habitat for a desert climate so guess who they're gonna introduce this to people in nevada people in california people in arizona uh people in new mexico uh people in colorado areas all that this is just came out now what's even more important this is where they talk about right here governments look to smart islands for high tech and low carbon solutions now i'm gonna take you into the documents where they talk about they want to relocate you and they're gonna they're the problem eccolo lì già lui è andato a trovare alcuni documenti dove si parla di trasferire le popolazioni la pagina di prima si chiamava tutti gli effetti lo ha detto però magari non si capiva boom design boom qualcosa di simile quasi tutte le pagine che lui è andato a trovare sono andato a cercarle anche io e ho trovato altro siamo avanti they bring the solution you get your butt over there in some smart island because oh we 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 devastated your climate we're sorry but we got a solution for you let's go let's go to these documents real quick because you need to see it 668989 let's go we're gonna go with the documents we're gonna go with the documents what's going on everybody so once you see this happening you got to get out of there this is the freaking documents everybody you need to get this out to everybody okay i don't think anybody's talking about it as much but there's a plan for us after this happened but if we know about the plan and we can then in real time reverse what's happening and think about it and know where not to be then we can make change climate smart island here it is background due to low geographic altitude their islands nature developing infrastructure Caribbean nations are particularly risk to climate and accompanying impacts including weather irregulatory is accelerated coastal erosion ok qui parla della debolezza di queste isole caraibiche l'ho visto anche io la pagina quindi soggette a disastri climatici a questa crisi climatica irregolarità meteorologica che qui non aveva tradotto bene quindi io ho messo io i puntini sulla i e qui sicuramente voleva dire o meglio voleva tradurre come l'innalzamento del mare significant damage due to frequent climate change related extreme weather events including hurricanes tornadoes uh tropical storms intense wind rain high ocean acidity levels from increased carbon dioxide can cause harsh marine environments so you go down here and it says about the program well let's know about the program qui giustamente va sottolineato il fatto che ovviamente non tutti ma la maggior parte soprattutto quelli più estremi parlo di disastri climatici includendo anche gli ultimi terremoti quasi tutti sono artefatti e come ragionamento ve l'ho detto la volta scorsa lo rimettiamo in gioco adesso per importanza includendo quegli incidenti che hanno dell'assurdo dall'ohaio a tutti i successivi che in concomitanza magicamente sono avvenuti sono fatti vedere anche altri d'aggiornamento mi pare dove dove era in florida c'è stato un altro mega incidente sempre di treni con galloni di robaccia chimica che hanno rischiato anche lì di creare disastro quindi tutto questo per focalizzarci sul problema reazione soluzione e sulla loro narrativa non per niente ma per farci focalizzare su questa narrativa e per imporre la loro soluzione problema reazione soluzione quindi con le loro tecnologie ad esempio arp terremoti uragani eventi climatici sempre più intensi ma la maggior parte artefatti cioè da loro condotti like oh you got something for us you're gonna help us to help build resilience against climate change the inter-american development bank so a bank launched this the bank you know all the rest of them you know the Rothschild all of them probably was in it american development bank launched the climate smart islands program under the sustainable islands platform the climate smart island program aims to demonstrate ways to transition to low carbon and climate resilient pathway into the pilot islands and they tell you all the islands the bahamas and everything else they also already admitted that they want to do it in texas coastlines you know any coastlines really that you can name that they say gonna get flooded and gonna get hit with heart assolutamente gli diamo ragione perché io andando a ricercare ho trovato progetti a noi vicinissimi all'italia e le isole intelligenti in italia tutte le isole minori in italia sono già state prefigurate come laboratori a cielo aperto per divenire isole intelligenti ora ci arriveremo heart storms i've never heard of it before but we knew they were already using smart prisons smart jails all this other stuff china has a high-tech prison but in this united nation report talking about harnessing digital technology to protect peacekeepers civilian security council urges adopting presidential statement they start talking about something weird here and we're about to get into that here with you in just a second so all the stuff you've been seeing in sci-fi is stuff that they're already definitely using already all the weird crap that we've been seeing so let's go into it right here on the opening debate it says however is peacekeeping architecture was convinced in an analog world and time has come for a shift this is what Antonio Guterres said it says it is now essential that peacekeeping fully embraces the digital world in which we live to improve the United Nations agility anticipation responsiveness to conflict and be able to address challenges of today outlining his newly released digital transformation strategy for United Nations peacekeeping which aims to embrace opportunities offered by digital technologies now check out this part because china was the one who was saying this it says because china is going to run the whole global system once they get ready the representative of china noting that his country the largest troop contributor of course because the UN because that's obviously who's the biggest leader in this tyranny as well among the council five permanent members and don't get me wrong that every country has its own tyranny and they all lead it emphasize that the new use of technology should respect the sovereignty and will host countries and avoid interfering in internal affairs or harming national public and information security that's what they say truth from police contribute a country should provide timely reimbursement now it says pointing out that china has funded various projects to build smart camps in strengthening data sharing aimed at improving the safety of peacekeeping camps and enhanced capacity of peacekeeping operations so they're saying they have literally smart camps now obviously they didn't tell us what type of smart camps they got now me in my mind i'm thinking okay well if you can't tell us that means most of the other stuff that's happening is classified and you probably have some type of ai and if you got the choice a great android climate smart island so think about it that do sound like some hunger game stuff climate smart islands has been working over the past year to identify and implement climate resilient mitigation and adaptation measures in priority sectors so they got these sectors these different areas islands all over and one thing i told you i noticed they don't shoot as much chemtrails off the coastlines uh you know the gulf of mexico and mississippi i see it mainly in the cities so obviously there's something going on out there now you're starting to learn that the maps and everything else the globe is not really what they're telling you it's just a circle but on the outside of that is something else going on which it was a square well all the rest of the islands are on the old ancient maps it was a buddhist map or whatever adaptation measures and priority sectors including transport infrastructure energy water waste treatment tourism to identify and so that's why they don't want to fix the cities because they already doing it on some smart islands where they're going to want to control and monitor everything you do and it says the identified measures were analyzed from cost benefit commercial potential prospective pilot projects are being carried out on three islands climate smart island under this program climate smart island is defined as an island has committed to embark on a journey towards climate change resiliency and the news by doing so the climate smart island is continuing to protect its natural cultural resources so the visitor today and in the future will be able to enjoy the island's hospitality welcome to the smart islands you know it's going to sound something like that they're going to have like some promotion or something like that here it is right here sustainable islands platform.org it's funded by inter-american development bank island so just because people disappear you don't know where they go well this will be one reason when areas get devastated just like they're pushing so i broke down even more ah se se la gente mi terrà sparire abbiamo una risposta ed è per questo lo dice anche lui che stiamo assistendo a tutti questi disastri artefatti lo dice anche lui e ha ragione a dirlo allora l'ho fatto vedere perché mette in discussione tante cose diverse pagine in aggiuntiva quello che ho trovato io e così chiediamo questa pagina vi faccio vedere il resto perché ha dell'incredibile quindi restate fino alla fine perché poi passiamo ulteriori aggiornamenti e conferme a riguardo di quanto abbiamo visto le volte precedenti da kenny west il suo manipolatore mentale che viene a galla sino a megan fox che apertamente ammette di bere sangue durante i rituali per scopi rituali anche questo non volevo crederci ma è successo quindi lo metteremo giusto come conferma a quanto abbiamo discusso finora la cena di roba che ho trovato quindi ora chiudiamo una pagina quello delle isole intelligenti smart island è quello che ha mostrato anche lui se non sbaglio ci sono ovviamente andato anche io ho controllato un po' tutto e ora andiamo ad aprirle insieme ci sono anche queste sì questo qua è quello di kenny west ma sarà una cosa veloce mi vorrei incentrare più che altro su un paio di notizioni ad esempio quella di megan sul consumo di sangue nei rituali e anche un altro modo in cui l'agenda le perversioni dell'elite stanno venendo a galla tramite la disney una nuova serie animata tutta satanista satanica allora questa è la prima pagina forse non l'aveva fatta vedere lui forse no 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 questa è già quella che tratta le isole minori italiane perfetto smart island.eu isole arcipelagli intelligenti un'isola sostenibile un'isola migliore smart island è un progetto realizzato dal cnr che mira a trovare soluzioni che incrementino l'efficienza energetica economica ed ambientale dell'intero sistema di produzione gestione distribuzione e uso delle risorse nelle isole minori italiane è lì dove hanno iniziato il team di smart island supporta le isole minori nella transizione verso modello virtuoso di sostenibilità ambientale studiando le migliori soluzioni nei quattro ambiti di intervento energia mobilità rifiuti ed ambiente infatti qua si parla di fonti rinnovabili sicuramente ci sarà anche la questione sui rifiuti che possono tracciare rifiuti e via dicendo piani sulla mobilità sostenibile ovviamente qui di che cosa ci parlano di percorsi ciclopedinali car sharing di auto elettriche e veicoli tipelle ecologici e riguardo alla tutela dell'ambiente adesso vi prendo i punti più importanti innanzitutto questo progetto come vedete fa parte del ministero dell'istruzione dell'università della ricerca il ministero dell'ambiente della tutela del territorio del mare ora vado dal forum che ho già preso le cose più importanti anche a riguardo dell'italia benissimo allora forse da quella pagina in realtà vedere il sito ah si infatti dal sito vi posso far vedere una cosa in più la riapro se noi dal sito andiamo in alto ci sono le sezioni c'è la sezione isole troviamo Capri, Ischia, Pantelleria, Ustica e Olia Egadi, Capraia, Procida, Tremiti, Ventotene, Ponza e Lampedusa lì c'è un po' di storia su ogni isola e i progetti che sono partiti e se noi cerchiamo ad esempio su ogni isola a riguardo dell'isola intelligente dei progetti vedrete che sono realmente avviati negli ultimi anni ora velocizzo un pochino per dare spazio alle prossime cose e vi faccio vedere le cose più inquietanti al riguardo delle isole intelligenti prima di chiudere Wallman Wallman sostiene Smart Island il progetto che abbiamo visto prima è lo stesso con Wallman tutte le isole minori italiane diventano sostenibili diventano isole intelligenti e leggete bene ora le prossime affermazioni un esempio di quello che vi stavo dicendo prima ad esempio su Capraia nel sito ufficiale visitcapraia.it tra i progetti ovviamente si va a parlare della Smart Island vedete Capraia Smart Island un modello tra sogno e realtà ora da questa pagina vi dico subito le cose più importanti che le ho trascritte e sottolineate nel forum per fare prima quindi derivano dalla pagina che vi ho appena aperto per la possibilità di testare modelli di sostenibilità le isole minori spesso oggetto di studi da parte della Commissione Europea e dei maggiori centri di ricerca nazionali e internazionali infatti la netta separazione geografica e sociale rende questi contesti territoriali assimilabili a veri e propri laboratori a cielo aperto di grande interesse per i modellisti svariate volte dal loro progetto in questione appunto le isole vengono definite come perfetti laboratori a cielo aperto ora da qui vi faccio vedere una cosa veramente incredibile la apro da qua ma queste sono tutte le cose che mi sono messo da parte spero di non aver chiuso qualcosa che ci serviva in Arabia Saudita tre hotel Marriott sulla Smart Island Sindala questo è il 14 marzo 2023 c'è anche un discorso interessante di questa Smart City Neom Sindala è la prima di un gruppo di isole che saranno costruite a Neom ed è destinata a diventare una delle mete più suggestive del Mar Rosso tra queste ce ne sono tante completamente artificiali di nuove isole attenzione non mi ricordo se questa era già una di quelle eh sì questa mi pare che sia una di quelle completamente artificiali apertura prevista per il 2024 ospiterà addirittura 115 suite di lusso cioè per ora queste qui almeno queste le stanno promuovendo come roba di lusso da raggiungere assolutamente le prime tre strutture ad aprire sull'isola sì questa deve essere tra quelle completamente artificiali la cosa più importante arriva dopo quando sono andato a ricercare su questo Neom se lo pronuncio bene e guardate che cosa ho letto Neom a che punto siamo con la Smart City Saudita nel 2024 primi voli per Sindala qui c'è un video dei lavori in corso a Davos per il WEF caso strano si parla del WEF 2023 il CEO del progetto Neom ha dichiarato che il 20% delle infrastrutture è già stato realizzato o è in fase di completamento qui c'è il video dello stato dei lavori in corso della futura città dello Stato Saudita tra una difficile sostenibilità ambientale e le denunce ripetute di violazione dei diritti umani di che parliamo una grande Smart City nel deserto dell'Arabia Saudita il nome del megaprogetto voluto dal principe Saudita dovrebbe nel tempo dar vita a una vera e propria Smart Region una propria Smart Region con diversi poli urbani turistici, industriali, ricreativi e commerciali sparsi nella provincia di Tabuk nel nord ovest del paese si è molto fantasticato su questa città di nuova concezione a volte chiamata città fantasma o città di sabbia ma negli ultimi giorni sono iniziati a girare le immagini delle informazioni dello stato dei lavori in corso aggiornato a giornalio 2023 ci sono testimonianze video sull'andamento della costruzione della Smart City The Line anche questo è interessante la linea significa del centro industriale Oxagon nel centro turistico montano di Trojena e della Smart Island Sindala proprio l'isola tutta green technologies potrebbe aprire le porte come vi ho detto nel 2024 avevo letto che questa The Line viene chiamata così perché proprio è una città intelligente messa in parallelo in orizzontale a formare proprio una linea dovrebbe comunque leggersi in un punto o nell'altro allora andando al punto più importante reinventare un futuro sostenibile a partire da ora così ci spiega al Nasr entro i prossimi 20-30 anni stiamo ridefinendo il futuro adesso guardate bene qui al fine 2022 il progetto Nihoma ha illustrato i primi cantieri per la città allungata che dovrebbe svilupparsi in linea orizzontale per 170 km circa una città avveniristica dove ci si potrà spostare solo a piedi o con mezzi elettrici cioè pensate questa è una mega città da 15 minuti sviluppata appositamente ma le cose incredibili arrivano adesso spazio anche alla quarta dimensione della mobilità con i droni per il trasporto pubblico di passeggeri e per la consegna delle merci la futura città di Nihoma in tutte le sue parti si estenderà per 26.500 km quadrati allora guardate qua ecco qua questo è il punto finale e il più importante in Arabia Saudita non bisogna dimenticare che non esistono istituzioni democratiche che il mondo del lavoro è ancora fortemente influenzato dal sistema della CAFA una specie di schiavitù salariata e legalizzata senza dimenticare che per realizzare la città stato Nihoma saranno trasferiti a forza più di 20.000 abitanti di quei luoghi remoti appartenenti alla popolazione di Yuweitat chi si oppone finisce in carcere o condannato alla pena capitale per popolare la zona vanno a trasferire più di 20.000 abitanti giusto per iniziare quindi vedete che quanto stava riportando come ragionamento ragazzo precedente che abbiamo visto in video questa è veramente una prova eclatante allora da questo video mi pare che non ci sia niente di utile ricontrollo dura due minuti non mi ricordo se era utile il futuro del lavoro, il vivere e la sostenibilità è venuto a vita il plan di master è di realizzare più di ogni giorno un progetto unico in scala già è stato costruito in un posto vabbè non sicuramente è utile per lo meno per guardare i progetti in corso ecco che abbiamo citato prima qua addirittura parla il 95% di terra protetta di rendere off limits il 95% ma guardate che schifo guardate che roba la città all'inizio l'inizio l'inizio la città all'inizio la città all'inizio l'inizio la città all'inizio la città all'inizio l'inizio l'inizio avete visto che mega occhio l'occhio che tutto vede Things are changing fast. In 2022, we launched companies, including Tonimus, our world-leading tech and digital enterprise. And Enoa, responsible for managing Neom's first class sustainable energy and water systems, featuring the world's largest green hydrogen production plant. This progressive stance is why we invested $175 million in Volocopter, the next generation of transport. Il Volocopter! It's why some 200.000 people are expected to attend the captivating exhibitions for the line. Eccola lì, la linea, guardate che roba! Che schifo! It's why athletes from 25 countries participated in the Neom Beach Games, and it's why the planet's fastest growing lifestyle brand, Enesmoor, has become the first hotel partner for Trojana. Already, Saudia offers direct flights from Neom to London and Dubai. Our media sector has supported 25 productions in 18 months, working with names such as the BBC, Apple TV. Vabbè, questo non ci interessa, ma i punti prima, niente male. We joined Ocean X to discover and protect the secrets hidden at the bottom of the Red Sea. With the Asian Football Confederation, we launched the Shahab... Ok. Vabbè, niente male, niente male. Andava visto. Ok, ultimi punti importanti sull'isola intelligenti, che ci tenevo assolutamente a portarvi. Qui c'erano anche un altro paio di video. Dalle piccole isole a isole intelligenti e la Itachi, con l'Unione Europea e le loro Smart Energy Island. Sino al Malesia, Smart Island City della Malesia, un progetto da 100 miliardi di dollari, e mi pare che anche questo sia completamente artificiale. Quindi vi faccio vedere solo il finale di questo qui, quello delle Itachi. Ah, sta portando via tanto tempo solo la questione dell'isola intelligenti. Quindi semmai qualcosa... Così, lo spostiamo la volta prossima. Da qui voglio solo farvi vedere il finale. Ma non è una volta di solare della prima fase di solare. Come ci sono state delle cose che sono state ki con il solare. Tutti è un punto di un nuovo che. Alla volta che ho avuto avuto da solare. Quindi questa fase di solare, adesso si ruminati negata, quindi è un secondo rinforo. Abbiamo questo grande progetto con Itachi. e anche su un giorno che è generata elettricità credo che ha realizzato una conversazione sull'islanda sull'energia, la consumazione e la conservazione e quello che possiamo fare per essere un po' più neutro carbonio ecco che cosa stanno progettando vogliamo salvare il mondo? la biodiversità? bene, allora prendiamo quasi tutte le porzioni terrestri naturali inaccessibili anche lì rientra il discorso della centralizzazione della produzione alimentare eccetera non potremo più fare nulla faranno tutto loro, distribuiranno tutto loro vogliamo salvare il pianeta? bene, quindi ci ammasseranno tutti in centri urbani come visto anche in Silent Green il film del 1963 che abbiamo visto insieme dovete guardarlo assolutamente e anche abbiamo scoperto anche in isole intelligenti che da laboratorio cielo aperto vedrete altre citazioni dal programma a veri e propri lager pensate un po' pensate un po' ecco quello che dovrebbero fare le isole intelligenti riduzione del carbonio dei veicoli elettrici ma questi sono in stage lo stage 2 qui l'Itachi che propone un cloud basato su piattaforma dell'internet of things l'internet delle cose connesso con cento case intelligenti veicoli elettrici intelligenti e nuovi sei nuovi siti energetici intelligenza artificiale a bilanciare l'energia la domanda di energia chiudo, chiudo perché c'è tanta roba uno sprazzetto anche di questo perché sennò non riusciamo a mostrare tutto almeno un paio di cosine extra volevo far vedere ad esempio questa da Megan Fox e la nuova serie della Disney satanica vediamo un attimo coi tempi uno sprazzetto di questo ci sta allora l'isola intelligente da cento miliardi nella Malesia se non sbaglio completamente artificiale per questo che costa così tanto guardiamo uno sprazzetto anche di questo www.mesmerism.info 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 Cities and urban areas are the engines of our global economy Standing at the intersection of commerce, culture, manufacturing, innovation and transport, the most successful metropolitan areas can increase the wellbeing of existing residents and newcomers alike while significantly driving economic growth across the broader region. In an effort to further boost its economy and leverage its unique position on the doorstep of Singapore, Malaysia are raising four artificial islands from the waters of the waters of the Johor Strait and constructing a 100 billion US dollar smart city from scratch. Malaysia is a prosperous Southeast Asian country whose successive governments have consistently invested in infrastructure and industry allowing them to construct iconic buildings like the Petronas Towers. While Malaysia has capitalised on its natural resources of timber, petroleum and natural gas markets to build a thriving economy, they're I'm going to go ahead, that this is the story of the story of the United States. ...the US$100 billion portfolio of strategic infrastructure investments to better connect China with its surrounding markets. Now the region is embarking upon one of the most ambitious construction projects that the world has ever known – the vast Forest City. Built across four newly created artificial islands, Forest City has been planned by Sasaki Associates and is being financed by one of China's largest residential developers, Country Garden. According to the developer, the scheme's location is the result of wanting to protect agricultural land as well as the region's coastal mangrove forests. When it completes in the mid-2030s, the US$100 billion new city will become home to 700.000 people and over 200.000 jobs. It's really super-inquietant. My family, I'm trying to put all the points together together for this great reasoning. It brings you to time, it's also been summarized from the past, for example, from the Agenda 21, etc., etc., I hope it's clear. I'll see you next time. 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 Commission Europe, Smart Island Energy System, systems for the intelligent islands, energy systems. India, we'll see you next time. I'll see you next time. I'll see you next time. This document is important to the Agenda 2030. If we look at the next time, change the transformation of the city and the island intelligent. There is a lot of people in the next time. We'll see you next time. Now I'll see you next time. la città sana e sostenibile soluzioni per le pubbliche amministrazioni le città sono un vivio le vecchie città, le nuove città messe a confronto, gli obiettivi dell'agenda 2030 c'è tanto qui dentro che vorrei guardare con voi qui si parla di isole intelligenti ma non di quelle che stiamo trattando adesso piuttosto si parla dei totem delle macchine con i display e via dicendo ecco questo è un esempio le isole intelligenti vedete per i rifiuti per le biciclette questo tipo di isole che non va confuso con tutto il resto che abbiamo visto per farvela in breve comunque questo documento ha tanta roba interessante da vedere ora la mettiamo da parte perché abbiamo poco tempo politiche intelligenti per isole intelligenti dall'Europa andiamo oltre questo Forbes articolo di Forbes 2019 lo aveva mostrato il ragazzo quindi non lo apro neanche i governi guardano le isole intelligenti per soluzione ad alta tecnologia a basse emissioni di carbonio lo aveva già mostrato lui anche questo climate smart island e isole intelligenti per il clima anche questo lo aveva già mostrato il ragazzo andiamo direttamente alle ultime affermazioni che ci servono Solimar International ecco qua altra pagina che aveva mostrato lui vedete le nazioni caraibiche sono particolarmente a rischio per il cambiamento climatico e per questi motivi che la Inter American Development Bank ha progettato e approvato la cooperazione tecnica regionale Caribbean Climate Smart Island Program al fine di incoraggiare la transizione verso un percorso di sviluppo low carbon e di resilienza al clima utilizzando come pilota le isole di Tobago Cagli e Colker Harbor Island cioè Bahamas quindi queste sono le pagine che aveva mostrato il ragazzo adesso ve le ho fatte leggere meglio Smart Island iniziativa dell'UE ecco qui ultime citazioni importanti ci tenevo ad arrivarci perché se no le saltavo per i tempi però guardatele Smart Island iniziativa ora vado a prendere direttamente quello che ci serve questo dal passato stiamo parlando del 2018 se non sbaglio farvi vedere dove stanno arrivando fino ad oggi le isole dell'UE si fanno avanti con proposte per il dopo 2020 sì questa iniziativa è stato un incontro per questa iniziativa con 22 rappresentanti di 13 paesi il 14 settembre 2018 per discutere come i recenti sviluppi politici dell'UE in materia di isole intelligenti possono servire loro al meglio ok andiamo al succo come abbiamo visto prima una citazione veramente assurda iniziativa UE diciamo che derivava direttamente da questa iniziativa UE la citazione di prima che adesso si ripete la Smart Island iniziativa è uno sforzo dal basso delle autorità e delle comunità insulari europee si basa su anni di collaborazione tra le isole europee e cerca di comunicare il significativo potenziale delle isole per funzionare come laboratori per l'innovazione tecnologica sociale ambientale economica e politica e di nuovo si ripetono le Smart Island Initiative no la Smart Island Initiative sottolinea il ruolo delle isole nell'accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia sostenibile a basse emissioni di carbone come detto prima abbiamo visto lo stanno facendo anche con le isole minore italiane utilizzare le isole come laboratori a cielo aperto e poi chissà se non come lager guardate qua sempre dall'iniziativa UE le isole sono laboratori viventi che possono offrire lezioni importanti su molteplici fronti politici tra cui energia trasporto economia circolare governance multilivello ciò è dovuto al fatto che le isole stesse devono affrontare sfide diverse a causa delle variazioni delle loro dimensioni della distanza della terraferma densità di popolazione governance eccetera le isole guardate qua un'altra conferma le isole urbane ufficiale scusatemi le isole urbane artificiali potrebbero fornire case alle Maldive con l'innalzamento delle acque 21 febbraio 2023 new scientists città a molti piani su due o tre isole bonificate fino a 6 metri sul livello del mare potrebbero garantire il futuro a lungo termine delle Maldive di fronte al cambiamento climatico ok così con questa chiudiamo la paginona sulle isole intelligenti che credevo di riuscire a trattare con meno tempo però come sempre va dedicato il tempo che va dedicato quindi chi se ne frega se rimane qualcosa in ballo lo vediamo la volta prossima spero che sia abbastanza sufficientemente chiaro fatto il possibile fatemi sapere allora chiudiamo una parentesi del World Economic Forum premesso che ovviamente sapevamo quasi tutto da Vigilant Citizen qua ho già tradotto la pagina per voi in anticipo le cose più inquitanti e distopiche promosse dal UEF ultimamente abbiamo visto anche questo progetto del UEF molto recente chiamato la guerra per la vostra mente il video lo trovate qui il penultimo leggere nella mente di tutti hackerare l'essere umano e lo stanno già facendo analizzare la nostra attività cerebrale per migliorare la produttività prevenire il crimine eccetera direi che questo è uno degli ultimi veramente assurdi proclamati dal UEF guardatevi questo video che ho pubblicato da poco qui effettivamente c'è qualcosa di nuovo anche sull'influenza e l'importanza nel World Economic Forum sino ai Young Globals Leader le marionette che sono messe al potere in tutto il mondo preparate istruite programmate proprio dal UEF andatevi a guardare il relativo video sempre che trovate su YouTube qui infatti qualcosina accenna anche al Young Globals Leader e ha fatto bene a metterlo insieme vi ricordo che questo Vigilant Citizen è un grande ricercatore che seguo da anni qui ci riporta controllare elementi usando le onde sonore questo questo progetto pubblicato dal UEF sinceramente mi mancava nel 2018 uno degli argomenti di discussione al UEF e qui vedete proprio vedete la pagina di riferimento Mind Control Using Sound Waves guardatevi la puntata su MKUltra la mia che ho fatto sul nostro YouTube che è molto importante al riguardo ne ha fatto un articolo completo andiamo poi a vedere se ci può essere qualcosa di utile questo è proprio il titolo della pagina del World Economic Forum questo è il titolo di un vero e proprio articolo pubblicato sul sito ufficiale del UEF è stato eliminato per motivi oscuri ma è ancora visualizzabile negli archivi web perché per fortuna ci sono le time machine che salvano le pagine anche quando vengono eliminate quindi andiamoci a dare un'occhiata insieme nonostante sia eliminata con le time machine riusciamo a guardarla infatti questa è una time machine la famosa wayback machine e praticamente crea delle copie di backup in modo che se vengono eliminate come in questo caso possiamo andarle a ripescare chiediamo agli scienziati come può funzionare questo controllo mentale utilizzando le onde sonore 2018 questo articolo fa parte del meeting annuale del consiglio del concilio sul futuro globale Global Future Council vediamo di leggere qui una di leggere una citazione dalla pagina che vi ho mostrato vedo arrivare il giorno in cui uno scienziato sarà in grado di controllare ciò che una persona vede con gli occhi della mente inviando le onde giuste al punto giusto nel cervello quindi questo è quello che un po' si è attuato concretizzato negli ultimi anni soprattutto grazie all'intelligenza artificiale e quindi ripesco questo video che vi stavo dicendo più recente dell'ultimo meeting 2023 proprio a riguardo di leggere le attività cerebrali delle persone è quello che si sta concretizzando la mia ipotesi è che la maggior parte delle obiezioni saranno simili a quelle che sentiamo oggi sui messaggi subliminali nelle pubblicità solo molto più vehementi più forti invasive questa tecnologia non è priva di rischi di uso improprio potrebbe essere una rivoluzionaria tecnologia sanitaria per i malati o un perfetto strumento di controllo con cui gli spietati controllano i deboli questa volta però il controllo sarebbe letterale l'articolo era quello che diceva l'articolo del UEFA non ci voglio credere neanche io isole artificiali anche in Danimarca Cina Hong Kong USA Miami ci dice Quarens vi avrei anche aggiunto la questione dei campi di internamento cinesi nel grande quadro ve lo dico adesso Cina intelligence camp perché se noi cerchiamo campi intelligenti cinesi si ritorna ai campi di internamento più che altro quindi doppiamente inquietante la questione sugli Uiguri come si diceva vediamo un attimo prima che sbaglio sì Uiguri ho detto giusto campi di internamento su queste popolazioni documenti segreti rivelano come la Cina detenuto nei campi di detenzione di internamento di detenzione di massa anche qui credo che parli degli Uiguri infatti si parla degli Uiguri e altre minoranze detenute all'interno anche questa è una storia tristissima che comunque io mi metto in gioco nel quadro che abbiamo visto questa sera volevo aggiungervelo prima ma avevo paura di far tardi comunque sì abbiamo fatto tardi pazienza ho fatto il possibile anche questo nel quadro andava messo i campi di concentramento non è che sono finiti un secolo fa anzi non è che sono spariti o meglio un secolo fa anzi vabbè ho raggiunto velocemente niente per questa sera è tutto per qualunque cosa siamo qui ci rivediamo venerdì sera io vi ringrazio io vi ringrazio infinitamente abbiate pazienza se abbiamo fatto un goccio tardi vi ringrazio per la vostra pazienza per il vostro tempo il vostro impegno soprattutto il vostro affetto vi mando mille baci vi auguro una buona notte